Agivano come dei padroncini, realizzando una vasta attività illegale di smaltimento di rifiuti nelle campagne intorno a Gela. Sulla vicenda hanno però fatto luce i carabinieri del Nucleo Ecologico di Palermo insieme ai militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, eseguendo un arresto con applicazione dei domiciliari, 15 sequestri di mezzi usati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e 6 sequestri di aree geografiche, il cui valore economico è stato stimato in circa 2 milioni e mezzo di euro utilizzate come discariche abusive. Nel corso dell'inchiesta sono stati documentati casi di smaltimento irregolare di 450 tonnellate di rifiuti. A disporre i provvedimenti il GIP del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Città del Golfo. L'inchiesta, che vede coinvolta una quindicina di persone di Gela, nasce da alcune segnalazioni di abbandono di rifiuti speciali, quali inerti, scarti di plastiche derivanti da lavori di cantiere, contenitori in eternit ed elettrodomestici fuori uso, nelle strade rurali vicino al centro abitato. Secondo la ricostruzione investigativa, gli indagati mettevano a disposizione i loro mezzi su richiesta di alcune persone che avevano la necessità di sbarazzarsi rapidamente di rifiuti pericolosi. Rifiuti che in alcuni casi venivano non solo abbandonati nelle strade rurali, creando delle discariche abusive, ma anche bruciati, come documentato da appostamenti e videoriprese realizzati dagli investigatori dell'arma.